Prima di iniziare clicca su iscriviti e metti un like. La celebre cantante Fiordaliso ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello in maniera piuttosto singolare, suscitando però imbarazzo e molta ironia tra gli spettatori. L'entrata di Fiordaliso al Grande Fratello 2023 è stata tutto fuorché convenzionale, lasciando perplessi gli spettatori. Una valanga di commenti su questo momento ha evidenziato un dettaglio che era impossibile ignorare. Tutto ciò è accaduto durante la seconda puntata, subito dopo l'annuncio di Alfonso Signorini. Il conduttore ha presentato la cantante al pubblico di Canale 5 come nuova concorrente, attraverso il consueto video di presentazione. La famosa artista ha poi scambiato i saluti con il padrone di casa, direttamente dalla passerella di fronte alla Porta Rossa. A questo punto, Signorini si è ricollegato con i concorrenti già presenti nella casa, promettendo loro di raggiungerli in studio per un saluto. Per rendere la scena credibile, ha avvisato l'intero gruppo su come comportarsi, chiedendo loro in particolare di evitare ogni contatto fisico. Dopo l'avvertimento, Alfonso ha proseguito il gioco chiedendo ai concorrenti di uscire dalla casa e raggiungere la passerella. Ha fatto posizionare tutti di fronte allo schermo e ha trasmesso un video che raccoglieva alcuni momenti in cui ciascuno di loro cantava. Subito dopo, ha chiesto ai geffini di eseguire tutti insieme Non voglio mica la luna. Ed è così che Fiordaliso è arrivata al Grande Fratello, sulla passerella. Si è posta di fronte ai concorrenti e ha iniziato a fingere di cantare, tenendo il microfono vicino al volto. Tuttavia, è stato evidente fin da subito che la nota cantante non stava realmente eseguendo l'atto. Il reality show ha utilizzato il playback, un fatto definito da molti come il clamoroso e imbarazzante. In effetti, non ci sono stati dubbi su questa performance. La situazione è diventata divertente per molti spettatori quando Fiordaliso ha smesso di recitare il suo ruolo di cantante dal vivo. Ha abbassato il microfono e ha cominciato a salutare i suoi nuovi coinquilini. In definitiva, la stessa cantante non ha fatto nulla per celare l'uso del playback. Solo in rare occasioni ha sollevato il microfono, ma ormai la situazione era chiara al pubblico. Questo non è stato l'unico elemento a suscitare umorismo sui social network. Molti spettatori hanno notato che i concorrenti del Grande Fratello, in realtà, non conoscono bene la canzone, fatta eccezione per il ritornello. Secondo molti, avrebbero dovuto creare un'atmosfera diversa per accogliere una cantante del calibro di Fiordaliso, una vera VIP. Nonostante sia stato un ingresso particolare, ha suscitato soltanto imbarazzo.